Eccoci qua esattamente all'equatore nel Borneo e anche qui troviamo i segni delle multinazionali. Qui abbiamo una catena internazionale con la promozione Burger Deluxe, 5000 rupie che sono 30 centesimi di euro, veramente un'innezia e questo ci fa riflettere della merda che mangiamo perché non è che qui non ci guadagnino nulla e l'hamburger è lo stesso che puoi mangiare negli altri paesi, non è che cambia, è fatto diversamente, è esattamente lo stesso, può variare un po' la salsina e questo fa capire quelli che sono i margini, gli introiti delle multinazionali che vendono il cibo modificato geneticamente, produzioni di grano modificate geneticamente, di soia, animali imbottiti con gli steroidi. Ecco quello che noi mangiamo, dobbiamo stare attenti, evitare queste cose. Quando viaggio all'estero sto lontano da tutti i simboli occidentali, altrimenti non potrei gustare il bello e il brutto che offrono i posti autentici nella parte più autoctona. Eccoci qua, vi saluto, ci sentiamo alla prossima e ve la do io, l'Indonesia. Grazie.